Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Bianca Azzèi accavalla le gambe in un'inquadratura da infarto, manca pochissimo Gli ammiratori a dir poco impazziti.Famosissima e seguitissima cantante italiana, Bianca Azzèi è una delle voci più amate dagli italiani Voce potente ed inconfondibile, l'interprete di Ora esisti solo tu ha sempre fatto parlare di sé grazie al suo talento, ma anche grazie alla sua vita privata In queste ore, l'artista milanese ha condiviso sui suoi canali social uno scatto a dir poco sexy nella quale ha poi annunciato qualcosa che sta facendo mormorare tutto il popolo del web Di cosa si tratta? Tutti i dettagli.Bianca Azzèi sexy su Instagram Oltre che cantante di successo e di talento, Veronica, vero nome dell'artista, è un personaggio televisivo benvoluto dal pubblico del nostro paese da quando ha preso parte alla tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi In questi momenti, l'interprete di Straniero sta facendo impazzire tutti i suoi follower su Instagram perché la Azzèi ha pubblicato uno scatto in cui appare molto sexy, in quadratura da infarto con gambe accavallate Ma non è il solo motivo della curiosità del web, di cosa si tratta? Bianca Azzèi sexy.Potrebbe interessarti anche, Bianca Azzèi, è successo l'impensabile, mi sentivo già mamma Azzèi, lo scatto oltre la notizia che nessuno si aspetta.La compagna di vita del comico Stefano Corti è costantemente sulla bocca del popolo del web e al centro dei gossip delle patinatissime riviste di Cronaca Rosa Infatti, nessuno si è lasciato sfuggire cosa sta accadendo in queste ore sul profilo ufficiale di Instagram della famosa cantante Da ciò che si apprende, Bianca ha pubblicato una foto abbastanza sexy sul suo account seguitissimo da tante persone La donna ha lasciato tutti i suoi fan di stucco perché, grazie ad un'inquadratura da infarto fatta d'arte, ha sfoggiato un accavallamento di gambe da mozzare il fiato Ma non è finita qui, anzi.In effetti, da come si può leggere nella didascalia del post che è composto dallo scatto bollente e poi da immagini tratte del soggiorno della cantante e del suo compagno a Miami, la Azzèi e il suo Stefano sarebbero pronti ad un passo importante È stato bellissimo.Ma è ancora più bello tornare a casa per darvi una notizia meravigliosa Manca pochissimo.Vi voglio bene cuori.Difatti, stando a quanto scritto da Bianca, presto comunicherà a tutti una notizia piuttosto importante e a dir poco bellissima Si tratterà di dolce attesa? Questo, per il momento, non c'è dato saperlo Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video